Nicole Murgia, dalle minacce di morte all'attacco ad Antonella dopo il GF VIP, la verità verrà a galla. Nicole Murgia spara a zero contro Antonella Fiordelisi, dopo essere stata eliminata dal grande fratello VIP. L'ex concorrente è tornata sui social per difendersi dai continui attacchi e insulti, e minacce, che le stanno arrivando nei DM ed Instagram dai fan dei Donnalisi, la coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Secondo il fandom della coppia, infatti, Nicole è stata la causa del fallimento della storia dei Donnalisi. Ma cosa ha detto? Leggo commenti pesanti. Insulti sulla mamma che sono, sulla donna che sono, gente che augura la morte. Poi oggi sento ti Antonella parlare di me come carnefice, come donna da pochi valori. Vittimella cara, ieri sera non era colpa mia, ora spari a zero sapendo che non posso risponderti, troppe cose ci sarebbero da dire su di te. Ma come mi insegni la verità viene a galla, con queste parole Nicole Murgia si difende dai continui attacchi degli atere e dagli insulti ingiusti ricevuti da Antonella Fiordelisi. E ancora, sono fiera di ciò che sono, della persona che sono stata senza fare male a nessuno. Ho costruito rapporti veri con persone che faranno parte della mia vita. Bombetta vi abbraccia uno a uno a tutti voi che mi state dimostrando affetto. Grazie, ha concluso così Lex Vipona. Să fac totul ca la carte să rub randurile, că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând niciun curcubeu, da ce că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai intârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta. Și-n plus, poți să sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus pot eu să sar.